Comitato del Vietri, Larino senza sanità, i piani operativi contestati dai cittadini che risiedono nella zona servita dall'ospedale, nel mirino della protesta, oltre a frattura finisce anche l'arcivescovo Bregantini. Contratti scaduti, sportelli nel caos, a fine anno terminato il rapporto di lavoro con i centri per l'impiego, oggi a Campobasso code agli sportelli disagi e confusione negli uffici. Elezioni a Isernia, una fila di candidati, mancano ancora sei mesi alle amministrative in programma, il 12 giugno in città ci sono già movimenti e indiscrezioni sui possibili aspiranti sindaco. Boom di presenza nei presepi viventi, le cifre decretano il successo delle natività allestite nei borghi, migliaia a Montenero e a Riccia, a Baranello la prima edizione. Calcio regionale, recuperi e anticipi in eccellenza, il Rocca Baravindola batte 5 a 1 il Casal Nuovo, in promozione lo Spinete, nell'anticipo supera 4 a 2 la Santeliana. Buon pomeriggio e buon inizio di settimana da tutti noi, edizione delle 14 del telegiornale di Telemolise. Non cambia lo scenario, nemmeno all'anno nuovo era in programma peraltro l'incontro dei componenti del comitato Vietri di Larino, dunque la sanità sempre in evidenza. I cittadini della zona protestano contro le ipotesi che sono contenute nei piani operativi del commissario, oltre a frattura nel mirino della contestazione, finisce anche l'arcivescovo di Campobasso Bregantini. Il punto di quello che è accaduto stamani in città nel servizio di Manuela Iorio. Stando agli annunci doveva diventare un ospedale per malati acuti. Al Vietri di Larino invece da mesi è in atto un inesorabile smantellamento. E non è soltanto il comitato, nato otto anni fa in difesa della struttura, a dirlo. Ci sono i fatti, giorno per giorno, che smentiscono le parole, quelle della politica. E c'è una sentenza del TAR che nessuno rispetta, le istituzioni in primis. Un dispositivo che disponeva il mantenimento al Vietri della chirurgia, dell'oculistica, della riabilitazione, della lungodeggenza e l'attivazione della rianimazione. Nei fatti invece la chirurgia è stata chiusa e quella che doveva essere una disposizione temporanea solo per l'estate, così come da provvedimento firmato dal direttore sanitario Filippo Vitale, è in realtà diventata definitiva, con graduale trasferimento di personale e macchinari. Il comitato non ci sta, la popolazione non ci sta, una popolazione che pian piano rinuncia a curarsi. Noi chiediamo il rispetto della legge, nulla di più. Noi abbiamo inteso opporci a quelli che erano i provvedimenti adottati dalla regione, prima dal presidente Iorio e adesso dall'amministrazione frattura e in entrambi i casi abbiamo avuto ragione. Noi chiediamo legittimamente che venga rispettato ciò che la giustizia ha stabilito per questo ospedale. L'ospedale di Larino non deve essere chiuso e l'amministrazione regionale prima ne prende atto e meglio è per tutti, perché comunque in questo caso sta continuando una diatriba, una battaglia che dura da anni, senza assicurare ai cittadini i servizi e naturalmente con sperpero di denaro pubblico, perché la regione si ostina ad utilizzare i soldi dei cittadini, perché noi abbiamo fatto la raccolta tra cittadini per difenderci. La regione usa i nostri soldi per difendere le proprie ragioni che non ha. Carolina Mancini è dura con il governatore, lo definisce falso e bugiardo e ricorda di quando era presidente Iorio e frattura contribuì con 250 euro al ricorso presentato al TAR dal Comitato per Salvare il Vietri. Lui e anche molti altri che siedono oggi nel Consiglio regionale, perché quando volevano i nostri voti sono venuti a prendersi degli impegni che non hanno rispettato. Tutti hanno adottato come buone le nostre ragioni, tutti pensavano che le nostre rivendicazioni fossero giuste al momento che loro erano all'opposizione e che avevano i nostri voti. Il presidente Frattura ci ha dato un contributo per la nostra battaglia. Adesso va al Consiglio di Stato dopo che una sentenza gli dà ancora torto. Ma naturalmente quando le ha avute lui le sentenze a favore è come ha preteso il rispetto. Ricordiamoci quella eclatante dell'annullamento delle elezioni di Michele Iorio, che poi hanno consentito la sua elezione. Beh, quella sentenza andava rispettata, la nostra no? Ebbene è troppo comodo così. E poi naturalmente questo episodio del venirci ad aiutare per poi venirci ad affondare, beh, io glielo rinfaccerò per tutta la vita. Caro presidente, lei è una persona che non ha la faccia, non ha la serietà di prendere un impegno con i cittadini. Lei ci ha ingannato e il nostro voto lei l'ha abusato e l'ha naturalmente usurtato. Il comitato si chiede ancora cosa faccia la magistratura sul territorio e va in polemica anche con l'arcivescovo Bregantini accusato di essersi presentato in consiglio regionale solo per difendere la fondazione Giovanni Paolo II. Sempre vicina alla battaglia del comitato anche l'amministrazione comunale. Secondo l'assessore Michele Palmieri, chi deve riorganizzare la sanità deve farlo ascoltando il territorio e fa notare che negli ultimi 15 anni il debito sanitario molise è cresciuto perché sono cresciute le convenzioni con i privati. Una petizione per salvare la Corte d'Appello di Campobasso invece la raccolta ci sarà domani nell'ambito di un'iniziativa organizzata dal Movimento dei consumatori sezione di Campobasso d'altra Italia Ambiente che hanno aderito a un Natale in Comune organizzato dall'amministrazione di Palazzo San Giorgio. Sarà possibile inoltre firmare anche l'appello relativo alla campagna per fermare la febbre del pianeta. L'appuntamento è per domani al gazebo alla fine del corso Vittorio Emanuele. Disagi, code agli sportelli, ressa e confusione negli uffici del Centro per l'Impiego di Campobasso e non solo per via della scadenza del contratto di una quarantina di lavoratori, contratto scaduto alla fine del 2015. Siamo andati oggi a vedere con Anna Maria Di Matteo. In fila da ore ad attendere pazientemente il proprio turno si è aperto così l'anno per gli utenti del Centro per l'Impiego di Campobasso che questa mattina arrivati un po' prima dell'apertura hanno trovato la sgradita sorpresa. Gli uffici semivuoti con pochissimi impiegati e una fila interminabile. E la conseguenza della situazione che peraltro si trascina da mesi dei centri per l'Impiego di Campobasso e Isernia, una sessantina i contratti scaduti il 31 dicembre con la quota più consistente negli uffici di Campobasso. La provincia che gestisce il servizio dietro una sorta di subconvenzione con la regione fa sapere che prima della fine dell'anno aveva approvato una delibere che in sostanza dava continuità ai contratti ma non una nuova proroga perché la legge non lo consentirebbe. Il risultato? Uffici presi letteralmente d'assalto dagli utenti che seppure contrariati hanno dovuto accettare quasi con rassegnazione una situazione che invece è assolutamente inaccettabile. Un quarto d'ora più o meno che sono qui, numero 49, sono al 23, quindi 23-24. Quindi c'è ancora da aspettare? Ancora qualcosina sì, però sembra che scorra abbastanza velocemente. Nonostante ci siano pochi dipendenti? Sì, ho sentito che oggi sono quattro assenti, però dai, sembra che si scorra abbastanza veloce. Posso chiedervi da quanto tempo state aspettando stamattina? No, non è molto. Penso sia un tre quarti d'ora che sono qui. Comunque la fila è abbastanza scorrevole. Ci hanno avvisato che ci sono dei problemi interni. Da un'ora. Un'ora? Sì. Lai viene di Campobasso? No, noi sono di Roma. C'era parecchio da aspettare? Ma sicuramente a Roma avrei aspettato di più, quindi un'ora è anche poco. Purtroppo c'è poco personale questa mattina e quindi c'è bisogno da attendere. Senti, ma conosci l'attività del centro per l'impiego? Se sì, sei soddisfatto oppure secondo te andrebbe migliorata? Secondo me andrebbe migliorata, anche abbastanza. Ci sono le risorse per migliorarla, devono solo adempiere a tutto. Numero 74. Ma lei da dove viene? Da Venezuela. Ma vive qui? Vivo qua, ho 12 anni. Fa 12 anni fa sto qua con mia famiglia. Senta, come mai si trova qui oggi? Deve sbrigare delle pratiche? Per migliorare pratiche di sanità. Devo fare questo per poter ottenere l'estensione, il rinnovo dell'estensione. Figurate, non solamente per il lavoro, sino anche per quello. Tutto è entrato, Dalia. Vedi che non c'è nessuna informazione. Io ho entrato prima per chiedere informazione. Ma niente, non c'è nessuno fuori. Non c'è nessuno nel banco. Nelle prossime ore il presidente della provincia di Campobasso, Rosario De Matteis, dovrebbe incontrare il governatore Frattura per tentare di sbrogliare l'intricata matassa e adottare provvedimenti per ripristinare il servizio quanto prima. Ma nel frattempo i disagi restano. Alcuni uffici postali del Molise invece sono al collasso. Lo denuncia il segretario di CISL Poste, Antonio D'Alessandro, che ha inviato ai vertici di Poste Italiane questa protesta. Il sindacalista ha evidenziato una forte carenza di personale nelle filiali di Campobasso e Isernia. Il problema, ha spiegato ad Alessandro, provoca disagi ai cittadini e ai lavoratori ed è destinato ad ampliarsi. Cambiamo pagina. Parliamo di politica. Anche se mancano sei mesi all'appuntamento elettorale delle prossime elezioni amministrative, tra quelle importanti nella nostra regione, lo ricordiamo, si vota ad Isernia il 12 giugno. Bene, nonostante manchi tutto questo tempo in città, sono già cominciati gli incontri, le riunioni, le indiscrezioni sui possibili nomi e sugli aspiranti alla poltrona più alta di Palazzo San Francesco. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Il via ufficiale alla campagna elettorale per il nuovo sindaco di Isernia ci sarà sabato prossimo con l'Assemblea regionale del PD. Convocata proprio nel capologo Pentro con l'obiettivo di puntare i riflettori sulla scelta del candidato del centrosinistra. Centrosinistra che è uscito rottamato da Palazzo San Francesco dopo la figuraccia rimediata con lo scioglimento anticipato del Consiglio a causa proprio della spaccatura interna al Partito Democratico. Senza contare che PD e centrosinistra, oltre a scontare i guai compinati con la sfiducia a Brasiello, scondano anche l'immagine negativa di frattura nel capologo Pentro. I democratici quindi non solo devono fare i conti con i loro guai interni ma portano sulle spalle la pesantissima zavorra nell'immaginario collettivo di un governatore che in tre anni di mandato ha mandato a picco il territorio, l'economia e l'occupazione di Isernia. Dalle sattorie all'ITR per finire con i precari della sanità della provincia e della regione. È tutto un pianto greco che indica un solo responsabile, il presidente della regione. Per questo la partita comunale per PD e centrosinistra è abbastanza ostica. I nomi dei possibili candidati sindaci più caldi dello schienamento, Fratturiano, sono quelli di Cosmo Tedeschi, che avrebbe già preparato le sue liste, Carlo Veneziale, oramai ex consigliere regionale, e quello di Lucio De Bernardo, fortemente voluto proprio da Frattura. Ma Lucio De Bernardo sembra che non ne voglia sapere. Passando al centro-destra, il clima pare certamente più ottimista. C'è voglia di rivincita e Iorio, Patriciello, Di Sandro e Di Giacomo, i big dello schienamento, sono convinti di rimettere le mani sull'amministrazione comunale di Isernia, ripartendo proprio dal capologo Pentro per riconquistare anche la regione. I nomi più caldi del centro-destra per ora sono quelli di Melogli, Giacomo D'Apollonio e Tonino Scungio, ma non sono escluse sorprese dell'ultima ora, con un nome fuori dai radar, perché soprattutto Iorio è convinto che sia essenziale la vittoria di Isernia per ripartire da capo a livello regionale. Ci sono poi i grillini, che ancora stanno ipotizzando programmi e nome del candidato sindaco, e ci sono i movimenti civili trasversali ai partiti, come quello capeggiato da Stefano Testa, che dice basta ai soliti nomi, o quello che vedrà scendere in campo Alberto Gentile, a capo di uno schienamento della società civile, o del libero pensiero insieme a Lucio Pastore, o ancora quello che potrebbe vedere scendere in pista Massimo Sterpetti, architetto e uomo di cultura, molto stimato in città. Insomma, situazione ancora fluida, ma l'appuntamento di Isernia comincia già a contare parecchio nella politica regionale. Restiamo a Isernia, ma per parlare della Galleria di Belmonte, sembrava che la situazione si fosse sbloccata, ne avevamo parlato nei giorni scorsi, del caso si era occupata anche striscia la notizia. In tempi invece sembrano di nuovo allungarsi perché la provincia non può indire la gara per la mancanza di fondi che non arrivano dalla regione. Sergio Di Vincenzo. I mesi ora sono otto. È da aprile che studenti e lavoratori trovano chiusa la Galleria di Belmonte del Sannio. Una semplice infiltrazione d'acqua sta creando notevoli disagi alla viabilità lungo l'unico asse di collegamento tra Alto Molise e Alto Chietino. Dopo una serie di palleggi di irresponsabilità, promesse non mantenute e l'intervento di striscia la notizia, qualcosa si è mosso. La regione, seppur con notevole ritardo, ha firmato l'attesa delibera. Ciò nonostante i perversi meccanismi della burocrazia non permettono all'amministrazione provinciale di Sernia di avviare i lavori, nonostante l'ente sia pronto già da un pezzo. Per indire la gara manca infatti un ultimo e decisivo tassello, l'impegno di spesa da parte della regione, ha confermato il consigliere delegato alla viabilità e trasporti, Mike Matticoli. La provincia di Sernia, nello scorso mese di aprile, appena si ebbe il problema, immediatamente si è attivata uno per attivare una variante riparandolo a proprie spese, rendendolo agibile a proprie spese per consentire comunque ai pendolari poter attraversare il punto danneggiato e subito si è attivata con la regione per ottenere i fondi necessari alla riparazione della galleria. I fondi sono stati destinati dalla regione Molise mediante la riprogrammazione lo scorso mese di dicembre. Fondi assegnati senza però programmare l'impegno di spesa sul bilancio regionale e questo è il problema perché la provincia in realtà è pronta, è pronta in tutto, è pronta con i progetti, è pronta con la documentazione per le gare d'appalto e quant'altro. Manca l'impegno di spesa che di fatto impedisce alla provincia di poter indire la gara. Nel momento in cui la regione procede ad impegnare le somme presso il proprio bilancio, in quello stesso istante la provincia può attivare le procedure di gara. La regione può procedere con l'impegno di spesa entro il 30 giugno. Nel frattempo la provincia potrebbe avviare i lavori anticipando i costi come ha suggerito lo stesso assessore regionale Pierpaolo Nagni ma il problema è proprio questo. Nelle casse dell'ente di via Berta non c'è nemmeno un euro. La provincia purtroppo non ha fondi, non ha più fondi nel proprio bilancio per alcune attività di manutenzione sulle strade. Infatti questo è un grosso problema che attanaglia la nostra viabilità. La provincia di Sernia ha 900 km di strade provinciali e tutte in totale assenza di manutenzione. Anche in Molise parte la stagione dei saldi si comincia domani martedì 5 gennaio si chiude tra due mesi esatti il 5 marzo. Per quest'anno dunque il calendario dei saldi è quello standard non è stata decisa a livello locale nessuna anticipazione come è accaduto invece in Basilicata, Campania, Sicilia e Valle d'Aosta dove le vendite con gli sconti sono cominciate subito dopo Capodanno sabato scorso anche se in molti negozi ci sono vendite promozionali e comunque sconti. La maggioranza delle regioni ha la stessa tabella di marcia per i saldi si comincia domani puntando anche sugli acquisti nell'ultimo giorno di festa che è appunto l'epifania. Dipendenti part-time discriminati al comune di Isernia alla presa di posizione dell'ex consigliere comunale Calenda fa seguito anche il sindacato che contesta le scelte del commissario Saladino. Sentiamo. Felice Antonio Dischiavi coordinatore del CSA provinciale di Isernia contesta la scelta del commissario Saladino sul personale part-time perché è ingiusto un trattamento diverso in situazioni uguali. Si tratta di quanto sta accadendo al comune di Isernia non si placano infatti le polemiche legate alla scelta del commissario Vittorio Saladino di aumentare le ore lavorative solo ad alcuni dei 43 dipendenti part-time. Dopo l'intervento di Filomena Calenda arriva anche quello di Felice Antonio Dischiavi che dice questo sindacato ha contestato la scelta di Saladino visto che presso il comune di Isernia tutti i dipendenti part-time sono inseriti in strutture nelle quali VIEF ha bisogno di risorse umane. A dirlo non siamo solo noi ma sono gli stessi responsabili degli uffici nei quali prestano servizio i dipendenti part-time. Per questo il CSA continua Dischiavi torna a chiedere al commissario l'aumento delle ore di lavoro per tutte le unità part-time in quanto le esigenze di servizio connesse sussistono per tutti i settori in cui tali unità sono impiegate. Nel caso in cui si ponessero esigenze legali connesse all'obbligo di non superare i limiti di spesa per il personale conclude il sindacalista tale aumento di ore nei limiti del budget disponibile deve essere distribuito equamente tra le varie unità part-time. Infine al commissario viene chiesto di attivare tutte le azioni utili per recuperare i fondi necessari destinati agli ex lavoratori socialmente utili. Apriamo la pagina degli appuntamenti e delle manifestazioni cominciamo con una iniziativa singolare che arriva da Fornelli dove è stato presentato un lavoro che raccoglie i soprannomi e ne spiega il significato. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. Dove non arrivano nomi e cognomi ci pensano i soprannomi a distinguere una persona o addirittura un intero nucleo familiare. Esistono sin dall'antichità e traggono la loro ispirazione da episodi curiosi o eventi storici mestieri difetti fisici o espressioni particolari. Un'illuminante lezione sulle origini di questi nomignoli l'ha data a Mauro Gioielli presentando il libro Perché ci chiamano così storia dialettale e sociale dei soprannomi di Fornelli frutto di un'idea di Pasquale Pilla poi sviluppata con Pasquale Lombardi. All'indomani della pensione mi sono chiesto che cosa farò da grande e nell'epoca in cui tutto è fagocitato dalla tecnologia mi sono chiesto forse un ritorno alle origini sarebbe una cosa buona ed è andato così cominciato a scrivere i cognomi quelli più curiosi e poi la lista cresceva ogni giorno di più consultandomi con il cugino Pasquale ha detto vabbè andiamo avanti da cosa nasce cosa ed è nato questo libricino. Nelle piccole comunità è noto un soprannome identifica una persona più di quanto facciano nome e cognome anche se il diretto interessato non sempre lo apprezza ma questo non è il caso di Fornelli se è vero che già si sta pensando a una ristampa a un'edizione aggiornata per raggiungere quelli che erano stati dimenticati. Di curiosi ce ne sono abbastanza la difficoltà forse è stata quella di poi risalire all'origine di questi soprannomi diciamo che i portatori dei nomignoli con molto entusiasmo molti non ci sono più però abbiamo avvicinato i familiari che hanno collaborato molto. Ma cosa colpisce dei soprannomi? Spesso l'ingegno di chi li concepisce? Dico una Gentulio si vede subito di una persona che sapeva il latino perché viene da Gens e Iulio quindi di un'antica famiglia romana e quindi ho apprezzato molto e significa che c'erano delle persone con una intelligenza particolare e anche con una cultura particolare. La serata si è conclusa con l'esibizione del Bivio di Sessano un gruppo che racconta le storie e la terra del Molise riscuotendo un buon successo anche fuori regione. Siamo felici di suonare per questa iniziativa di Fornelli anche perché noi raccontiamo il Molise e questa volta siamo riusciti a farci finalmente avvicinare anche dalla Fondazione Cultura Molise dopo 30 concerti dopo un disco fatto in Umbria e ci teniamo molto. Stiamo suonando con musicisti giovani del territorio e questo lo riteniamo ancora un altro obiettivo importante raggiunto. Suoniamo con ragazzi che hanno la metà degli anni di me e di Carlo Fantini. Mai come quest'anno è stato un vero e proprio boom di presepi viventi ormai tutti allestiscono la natività nel proprio borgo c'è chi lo fa da tantissimo tempo chi invece si cimenta soltanto da poco. Montenero di Bisaccia è uno dei più antichi quest'anno arricchito dalla presenza di un'attrice ce ne parla in questo servizio Manuela Iori. 32esima edizione per il presepe vivente di Montenero di Bisaccia uno dei più longevi del Molise e che ormai ha avvarcato anche i confini regionali per la sua caratteristica location all'interno delle grotte arenarie un percorso naturale che passo dopo passo conduce il visitatore nella ricostruzione della storia più antica del mondo quest'anno arricchita di due nuove scene quella della farmacia e quella degli scultori tutto possibile grazie all'impegno e alla passione della proloco frentana. È un'edizione molto riuscita non aspettavamo questa affluenza di persone da fuori sono venuto da tutta Italia possiamo dire finora e non posso che ringraziare il sindaco Nicola Travallini per l'apprezzamento e l'aiuto che ci dà grazie a lui se tutto questo viene realizzato. Ringrazio tutti tutti i collaboratori della proloco e niente io sono semplicemente diciamo una voce della proloco il resto fanno tutto loro sono tutti gli altri ragazzi che lavorano sono due o tre mesi che lavorano per questa edizione grazie a loro. per facilitare l'arrivo dei visitatori quest'anno il comune ha predisposto un servizio navetta già dalla zona Bivio un'edizione dunque che ha fatto registrare un numero altissimo di presenze che nella rappresentazione del 3 gennaio ha visto anche la partecipazione di Roberta Scardola giovane attrice dei Cesaroni che per una notte ha vestito i panni della regina Mariamne II terza moglie di Erode. è sempre sorprendente scoprire certi posti lo stavo dicendo prima sembra quasi di entrare in un angolo di paradiso ed è inimmaginabile che si riesca a fare tutto ciò quindi complimenti veramente a tutte le persone che si sono impegnate per fare questo presepe vivente di cui un po' l'Italia per le sue usi tradizioni deve veramente andarne fiera ed essere ammirata in tutto il mondo io lo dico a gran voce le scene che si susseguono sono davvero caratteristiche dal fabbro al frantoio dai pescatori fino alla natività l'ultimo appuntamento è per il 6 gennaio con l'arrivo del Re Maggi rinnovo il vito come tutti gli anni perché credo che sia una bella esperienza un presepe che merita e come ho detto tante altre volte l'importante l'importante sì è per chi crede per chi coltiva la religione per chi crede in Gesù però è comunque un percorso storico è comunque una bella esperienza e quindi io invito chiunque a venire e in circa 5 mila invece hanno assistito alla decima edizione del presepe di Riccia l'evento si è svolto in due giorni ha richiamato in città un folto pubblico alla scoperta degli antichi mestieri delle scene bibliche ambientate in un contesto particolare come quello del centro storico di Riccia e dei suoi palazzi più simbolici e monumentali la torre il magazzeno e il beato Stefano soddisfazione è stata espressa dal presidente della prologo Salvatore Moffa che ha sottolineato come il presepe sia ormai patrimonio della comunità di Riccia costituito con il sacrificio e la dedizione di centinaia di persone sul valore di coesione e dell'attualità del messaggio evangelico si è soffermato invece il parroco Ferdinando Pentrella oltre 30 scene 300 figuranti con scene recitate e dettagli come le catapulte le bighe le uniformi ispirate all'epoca che hanno completato l'apparato scenografico della rappresentazione rappresentazione che invece è stata portata sulla scena per la prima volta a Baranello sentiamo come è andata nel servizio di Valeria Farina Antichi mestieri tradizioni e cultura locale sono stati gli ingredienti del successo del presepe vivente di Baranello una prima edizione che si svolta tra i vicoli gli scorci del centro storico del paese coinvolgendo tutta la comunità e le associazioni presenti sul territorio uno studio attento alle scene e ai ruoli in una duplice impostazione botteghe degli antichi mestieri da una parte e dall'altra la rappresentazione fedele dei passi del Vangelo di San Luca un confronto quello scelto da Gian Mario di Risio regista e sceneggiatore dell'evento e rappresentante del comitato itinera abbiamo dato un'impostazione particolare un doppio binario da una parte c'è la storia la ricerca filologica con le botteghe dove lo spettatore ha un atteggiamento più dinamico e dall'altra parte ci sono i quadrisacri invece che è più il versante simbolico metaforico ecco anche spirituale della manifestazione abbiamo scelto come barra drammaturgica Luca il Vangelo di Luca che è forse il sinottico che più ha un equilibrio tra giudaismo e teologia che sarà quella cristiana e che poi ha un focus forte su Maria la Vergine e la Madre Gesù quindi questi due poli che guidano completamente lo spettatore un presepe vivente questo che si è svolto a Baranello realizzato con uno studio dettagliato dei testi sacri dove guida il riferimento per gli organizzatori è stato il parroco Don Michele Socci quest'anno abbiamo scelto il Vangelo di San Luca hanno scelto loro e quindi c'è questo Vangelo della gioia questo Vangelo che esprime un po' queste doppie annunciazioni dell'Angelo a Maria e a Zaccaria e quindi le due nascite la nascita del Battista e la nascita di Gesù e in mezzo c'è la visitazione di Maria a Elisabetta e poi si conclude con la Natività soddisfazione anche da parte dell'amministrazione comunale per la riuscita dell'evento che è stato un modo anche per rafforzare lo spirito di comunità e di unione tra i baranellesi oltre che di riflessione e fede vorrei ringraziare tutte le persone di Baranello che hanno avuto l'idea di partecipare in maniera massiccia e entusiastica a questa iniziativa è sorto un comitato promotore dal nome Itinera che in maniera molto disinteressata ha promosso questa iniziativa che ha visto il coinvolgimento poi di tutta la popolazione e di tutta la comunità sta già sbancando il botteghino l'ultimo film di Checco Zalone Quo Vado che già aveva fatto segnare tutti i record con Sole a Catinelle il film che era stato girato in piccola parte in Molise che aveva tra l'altro suscitato anche qualche polemica per come era stata trattata la nostra regione proprio Checco Zalone ospite degli studi di RTL si è voluto in qualche modo scusare abbiamo tirato fuori un pezzettino dell'intervista che sentiamo insieme saluti dal Molise che grazie al tuo film scorso ora tutti sanno che si trova in Italia sei un grande quindi ci sono anche dei vantaggi questo mi fa piacere perché molti invece si sono incazzati ricevo un sacco di lamentele dai molisani perché l'avrei dileggiato nell'ultimo film ci ho scherzato su quindi chiedo scusa al Molise li voglio un sacco di bene senti qua uno per uno ai molisani ovviamente pochi ma buoni noi ci fermiamo e vi salutiamo vi aspettiamo all'edizione degli aggiornamenti dopo le previsioni del tempo e la pagina sportiva per ora è tutto grazie e a più tardi